Isola dei Famosi, Lori del Santo è stata a letto con un naufrago, ecco chi. A due settimane dall'inizio di questa nuova avventura, un naufrago è nel mirino del gossip. Da una settimana non si fa altro che parlare dell'ex tronista Francesco Monte, soprattutto per le gravi accuse che gli sono state rivolte da Avenger. L'ex pornostar ha diffamato l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez di aver fumato marijuana in villa per ben tre giorni, mettendolo nei guai. Attualmente Mediaset ha comunicato che i filmati verranno esaminati e, se ci saranno riscontri positivi, verranno presi i dovuti provvedimenti. Uno dei concorrenti ha preso le parti di Francesco ed ha instaurato una bella amicizia che, molto probabilmente, continuerà anche in Italia. Stiamo parlando di Marco Ferri, figlio del campione Riccardo, che ha vinto al televoto contro Avenger ed è riuscito a rimanere in gara. Il giovane non sa che una showgirl italiana ha deciso di parlare di lui e riscatenare il gossip, scopriamo insieme di chi si tratta. Lo scopo La showgirl, che ha confessato di conoscere Marco Ferri da oltre dieci anni è Lori del Santo. La donna è rimasta molto affascinata dalla bellezza del giovane e, secondo Lori, all'epoca era ancora meglio di ora, a Cannes, in occasione del Festival del Cinema, del Santo chiamò Marco per non restare da sola in albergo. Siamo partiti in auto e lui ha guidato per cinque ore e ha esclamato Lori, aggiungendo che una volta arrivati in Costa Azzurra hanno dovuto dormire insieme perché in albergo erano disponibili solo camere matrimoniali. Tra i due non ci sarebbero stati rapporti, infatti la regista ha affermato che con Marco non è successo nulla poiché aveva sonno. Il giovane naufrago aveva chiesto a Lori di non proferire parola sul loro weekend, dato che lui voleva diventare famoso e l'avevano chiamato per l'isola dei famosi. La svolta Una volta tornata a casa, Lori del Santo raccontò del suo weekend con Marco al suo fidanzato Rocco Pietrantonio, il quale le chiese di scegliere tra lei e il figlio Devin, senza esitazioni, la donna scelse il figlio, che nel frattempo era diventato amico alla nuova fidanzata di Ferri. Ad oggi la regista di The Lady ringrazia il giovane concorrente della reality per averle dato il coraggio di chiudere con Rocco, il quale era molto geloso e permaloso. La loro storia terminò nel lontano 2011 e attualmente la showgirl fa coppia figlia con un ragazzo più giovane di lei, la vedremo presto con l'abito da sposa, lo scopriremo, ma cosa ne penserà Marco dopo le rivelazioni della donna, smentirà la vicenda o accetterà dato che ormai è già in Honduras, isola dei famosi 2018? La loro storia terminò nel lontano, smentirà lontano, smentirà lontano, smentirà lontano, smentirà lontano. La loro storia terminò nel lontano, smentirà lontano, smentirà lontano.